Poste Italiane ha deciso di estendere il blocco dei postamat fuori dall'orario di ufficio a tutta la Puglia. I distributori automatici di banconote da giovedì scorso vengono disattivati e privati del contante al termine del turno di apertura degli uffici postali. Gli sportelli saranno riforniti e resi nuovamente disponibili alla successiva riapertura dell'ufficio. Proprio nella città di Andrea, lo scorso 5 novembre, era stato assaltato il postamat dell'ufficio di via Alto Adige, mentre nei mesi scorsi lo stesso episodio si era verificato negli uffici di via Trani e via Aldomoro. Stessa scena anche in altre città della Puglia. La decisione, spiegano da Poste Italiane, è stata assunta per ragioni di sicurezza a seguito dei riterati e devastanti atti criminosi avvenuti nelle ultime settimane e che hanno provocato gravi danni alla struttura degli edifici ospitanti. Poste Italiane è impegnata a ripristinare quanto prima il servizio ATM 24 ore su 24, però in condizioni di sicurezza.